hai qualcosa di dolce da dire a qualcuno oppure di simpatico divertente curioso o irriverente partecipa al progetto mucchi un dolce per te mandaci la tua proposta e se sarà scelta una tra cinque famose pasticcerie fiorentine trasformerà la tua richiesta in un dolce messaggio realizzato secondo i tuoi desideri e creato a regola d'arte da maestri pasticceri e poi grazie ai nostri inviati speciali consegneremo il dolce messaggio proprio a chi vuoi tu così la tua idea diventerà protagonista di un nuovo video format in onda su tv e internet hai già in mente un dolce messaggio vai su undolceperte.it è un'idea mucchi